come ruido comunque bisogna sempre dire buon compleanno a canale 5, 10 anni di canale 5 è un concorso divertente che farà sorridere cosa si sa sofficini findus, sofficini findus, sorriso che c'è in te che ti premia, come ti premia allora, tutti possono diventare personaggi televisivi infatti direi di una truplica a canale 5 che andrà in casa di un fortunato a strada di un fortunato estratto che racconterà una sua storia divertente una sua storia curiosa si possono vincere centinaia di milioni poi dirò che ci vediamo venerdì con sempre a presto te ci vediamo con buon compleanno a canale 5 vado da Stefano, posso andare da Stefano a registrare? per me si, per la nostra truplica Stefano, abbiamo già registrato state scherzando? Stefano, filmato ci mettiamo io su entrata grazie a tutti grazie a tutti